L'annunzio era da Luzio finishing up Vai Luce ci! Luzio era da Luzioorsi persa ridata per il posto si preparano al catami 2 le categorie cadetici a dire 50 kg 55,60 al catami 2 fuori la gamba giù la gamba e tira vince il basso Renato vince il gruppo Triodoro vince il gruppo Triodoro